Io dico soltanto questo, che fino ad oggi Grillo aveva detto delle cose da diversi anni e io non ci credevo, erano tutti ladri, PD meno L, purtroppo o fortunatamente, diciamo purtroppo perché sono contento che l'Italia va male, è successo quello che è successo, vanno tutti quanti uguali, caso Greganti, altri casi, purtroppo sono la stessa parrocchia, quindi bisogna stare attenti, io devo dire non ci credevo, confesso che per i tempi non ci credevo, ero molto critico, il mio lavoro è proprio quello che faccio io, essere critico a livello politico, tra l'altro avevo pure delle simpatie del PD devo dire, adesso mi sono accorto che il PD prima di tutto non esiste, purtroppo è tutto frazionato e sta lì soltanto Renzi, soltanto lui c'è stato. E adesso dico fare attenzione a un'altra cosa, adesso non è indispensabile, forse uno deve essere del 5 Stelle perché in questo momento economicamente se la passa male, anche chi se la passa bene deve stare attento perché Berlusconi permette adesso di dare soldi a tutti, di togliere i liciti del rimu, lui dirà solo delle bugie, per cui fate attenzione alle parole che dirà Berlusconi dei prossimi giorni, quindi questo lo dico alle persone normali, lo dico alle persone anche povere. Ho finito, grazie.